andiamo ma perché? ma perché? ma che non si passa? raddrizza quei tombini lì butta giù quello Lele butta giù quello lì grosso sopra e basta siete troppo lenti basta roba difficili eh Zabbini quasi basta eh no che si rompe si rompe lui bella sia dei campi guarda che quasi vivai addosso la puliamo andare avanti la puliamo andare avanti adesso lo diciamo anche agli altri e ci abbiamo dentro i seghezzi e cosi se no deve andare su fino a via la strada però se riusciamo a farla tutta fino a là è bello si ma fino a là è pulita fino a là è già pulita no è giusto allora di qua dopo esce in strada invece l'ho già pulita quasi fino al ponte andiamo avanti a pulirla un pezzettino al posto di andar via subito eh o ne puliamo un altro pezzetto no questa va lungo la strada arrivi verso la strada e bisogna vedere se abbiamo voglia di pulirla ne puliamo un pezzo ancora no dopo vai al fiume ma avanti un pezzo allora andiamo avanti in voi tanto fino a vai vai avanti tanto io l'avevo già pulita fino a quasi al ponte vedi dopo di qua vai sciuva e sciuva la strada allora dopo di qua sali e vai su lì alla stradina lì c'è la strada però se andiamo avanti a pulirla puliamo fino al ponte un pezzetto si perché fino a qua sono arrivato dopo da solo figa non finisci mai